Ciao a tutti, io sono Priscilla, sono nata e cresciuta a Niscemi e sono stata alunna della scuola alberghiera dell'istituto Luigi Sturzo di Gela tantissimi anni fa. Dopo aver passato cinque anni meravigliosi con i miei compagni e con dei professori eccezionali con i quali ho ancora dei rapporti di amicizia anche dopo tantissimi anni, ho deciso di frequentare l'università e quindi sono andata a vivere a Roma per tre anni e dopo essermi laureata ho iniziato a viaggiare per il mondo, quindi ho vissuto in Inghilterra, poi in Australia e adesso vivo in Nuova Zelanda. Quindi vi vorrei dire una cosa veramente molto importante, se volete anche voi spiccare il volo e se volete realizzare i vostri sogni è meglio che facciate la scelta giusta, come ho fatto io. Un bacio grande dalla Nuova Zelanda! Chiara! I'll see you soon! Chiara! Grazie a tutti.